Amici al Silenon, bentornati in Friday dell'Olimpico. Oggi siamo qui in un nuovo video, ora solo prima di iniziare un bel mi piace, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento qua sotto con le vostre impressioni su ciò che state per andare a vedere. Dico a vedere perché oggi siamo qui nel secondo episodio delle mie proposte per le nuove divise appunto delle squadre di Serie A per l'anno prossimo. Ragazzi, oggi siamo qui col Milan. Ci tengo a dire che questo video, cioè l'intro e l'altro, le sto registrando dopo aver registrato la parte appunto in cui descrivo le maglie. Quella parte l'ho registrata prima. Oggi il Milan ha presentato la prima divisa che appunto è risultata essere fedele a delle prime immagini che sono uscite da vari giorni fa. Io per la prima appunto mi sono basato su quelle immagini che uscirono un mesetto fa e effettivamente poi si sono rivelate vere. Qui insomma diciamo che la prima ci ho preso così tanto per. Ragazzi, poi appunto la seconda e la terza ancora non sono uscite quindi la seconda e la terza l'ho ideate io dal nulla diciamo. Quindi ragazzi, spero vi piacciono. Fatemi sapere nei commenti di quale altre squadre vorreste vedere le maglie e arriviamo a 15 like per il terzo episodio. Ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere. Ecco le maglie. Ma partiamo dalla prima. La prima ho cercato di farla abbastanza classica con queste righe in verticale nere che continuano anche sulle magliette ma con uno stile un po' diverso, un po' più sfumato. Colletto e bordini delle maniche in bianco stessa cosa per il logo della Puma sia sulle spalle che sulla maglietta e anche per lo sponsor Fly Emirates. In tutto la divisa si presenta così con pantaloncini total black che presentano il logo della Puma in bianco mentre i calzettoni hanno queste righe orizzontali rosse e nello sfondo è nero. Anche su di essi il logo della Puma è in bianco. Maglietta abbastanza semplice, abbastanza classica. Ho cercato di prendere anche le immagini che sono uscite negli scorsi mesi che appunto pronosticavano come sarebbe stata la maglietta appunto l'anno prossimo. Passiamo alla seconda. La seconda è bianca, total white con il colletto rosso-nero e i bordini delle maniche in nero presenta sulla spalla destra questo craft che fa intravedere uno stile sotto a strisce orizzontali rosso e nere l'uogo della Puma sia sulle spalle che sulla maglietta in nero stessa cosa per il logo Fly Emirates. La divisa in tutto si presenta così con questo stile degradante sia sui pantaloncini che sui calzettoni sui pantaloncini va dal bianco della maglietta verso il nero mentre sui calzettoni va dal nero finale dei pantaloncini al bianco per riprendere anche un po' il colore della maglietta. Il logo della Puma sui pantaloncini e sui calzettoni in nero e in tutto si presenta così. Questo mi piace tanto perché appunto il Milan ha presentato tante volte magliette bianche ma questo graffio sulla spalla quasi come se il diavolo del Milan avesse dato un graffio alla maglietta mi piace molto. L'ultima divisa invece è questa ci ho messo tantissimo per farla perché non trovavo un colore giusto quasi perché il Milan non ha mai usato tanto nei colori a parte appunto quest'anno ha fatto la maglietta celeste almeno che io mi ricordi e ho cercato di farla di questo colore giallo quasi oro perché mi ricordavo qualche maglietta di questo colore anche nel passato del Milan quindi maglietta che presenta uno sfondo di questo giallo quasi oro scudetto del Milan invece che essere in alto a sinistra l'ho messo al centro un po' in stile Atalanta quasi lo sponsor Fly Emirates in alto a sinistra al posto dello scudetto in nero colletto e bordini delle maniche in nero mentre il logo della Puma è nero sulle maniche e dovrebbe essere nero anche sulla maglietta perfetto ecco qua è nero sulla maglietta in tutto si presenta così con i pantaloncini che riprendono un po' lo stile degradante della seconda maglia che da questo giallo passano al nero e appunto questo colore nero termina con i calzettoni che sono Total Black il logo della Puma è nero sia sui pantaloncini che sui calzettoni e niente in tutto si presenta così la striscia continua anche sulla schiena e sulle maniche ci ho messo tanto però alla fine il risultato mi piace perché appunto c'è abbastanza contrasto tra i colori è abbastanza anche abbastanza sobra con questa striscia lineare verticale rosso nera e appunto secondo me ci sta un casino e rasole queste erano le maglie fatemi sapere con un commento qua sotto se vi sono piaciute a 15 mi piace vi porto subito il terzo episodio e soprattutto fatemi sapere nei commenti di quali altre squadre vorreste vedere le maglie rasuoli noi ci vediamo domani penso io questo video questa intro e outro le sto registrando martedì sera quindi domani c'è Lazio Parma quindi se riesco a pubblicarle dentro stasera ci vediamo domani per il post partita di Lazio Parma sperando che lo sia lo smadoni ma soltanto oggi rasuoli sempre posto Lazio e un salutone ciao rasuoli ciao 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 ciao